Macro categoria imprese, categoria real estate. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, investimenti immobiliari. La motivazione. Per essere una realtà contraddistinta dalla passione del suo fondatore e dalla soddisfazione di coloro che vi si rivolgono. Per aver fatto dell'accessibilità la propria mission rendendo gli investimenti immobiliari privi di barriere, promuovendo la formazione attraverso piattaforme e programmi innovativi e creando un network di alto standing. Il premio va a Giuseppe Gatti Holding. Ho il piacere di avere qui con me nei nostri studi e naturalmente lo invito a salire sul nostro palco Giuseppe Gatti, CEO di Giuseppe Gatti Holding. Ecco qui il premio. Grazie, benissimo, grazie per il premio. Benvenuto, grazie per essere qui. La faccio accomodare perché subito sono curiosa di sentire che cosa significa questo premio per lei, per voi. Allora, questo premio è molto importante in quanto stiamo lavorando da tantissimo tempo su progetti innovativi, tutti legati al mondo degli investimenti immobiliari e stiamo cercando di abbassare proprio le barriere, quindi l'accesso a questa tipologia di investimento che solitamente è ad appannaggio soltanto di investitori un pochino più strutturati. Quindi in un momento come questo poi mi vien da dire ancora più apprezzato perché permette di guardare in modo più solido verso il futuro, uso questa parola. Il termine solido con gli immobili ci sta molto bene, assolutamente sì. Allora diciamo che quello che stiamo provando a fare e insomma quello che è accaduto ci sta dando ragione è riuscire a rendere diciamo questi investimenti accessibili e lo facciamo grazie anche a un gruppo, a una community, una community di investitori che si è unita insieme a noi e ha dato la possibilità di gestire tutte le attività che svolgiamo sul territorio. Una parola che emerge, insomma che è emersa nella motivazione è proprio formazione. È una parola che insomma in questo momento ha acquisito tanti significati. Assolutamente. Che cosa significa per voi? Allora per noi formazione significa trasferire il know-how e le competenze a chi ha bisogno di accedere a queste informazioni. Lo facciamo su vari livelli, diamo la possibilità alle persone di formarsi insieme a noi e di ottenere grandi risultati. Su questo facciamo anche un percorso che si chiama il giardino dei talenti dove andiamo a far emergere il talento dei singoli nel mondo degli investimenti immobiliari. E poi un'altra parola, a me piace lavorare sulle parole perché credo che da lì si possano aprire tante parentesi ma soprattutto tanti aspetti che possono far valutare le varie situazioni in tanti modi. Passione. Da lì poi parte tutto perché poi l'abilità, la capacità, la soddisfazione che arriva dai clienti, la formazione sono importantissime ma se non c'è passione prima o poi si esaurisce un po' tutto. Sì, diciamo che la fortuna è quella di fare una cosa che piace. Può essere anche difficile perché spesso va a compromettere anche gli equilibri personali. Però quando tu svolgi un'attività che ami ti trovi a non lavorare praticamente mai. E questa è una cosa che ti trasporta. O a lavorare sempre. O a lavorare sempre. Sì. Però diciamo che questo riesce a coinvolgere anche le persone perché percepiscono il tuo entusiasmo e quello che fai e questo si trasferisce al team che comunque ti permette di assisterti, di gestire. Io oggi sono qui a ritirare questo premio ma il premio è grazie alle persone che mi stanno dando una mano e tutto il team che sta collaborando sui vari progetti. Ecco, vari progetti. Quindi parliamo ancora del futuro giustamente perché questo premio ha riconosciuto insomma tutto ciò che è stato fatto fino a questo momento però la partita è ancora tutta da giocare. Progetti futuri, insomma come guardate al futuro? Allora, assolutamente progetti futuri. Noi siamo una realtà in divenire costantemente. Quindi siamo passati attraverso le raccolte crowdfunding, abbiamo fatto formazione, piattaforme di e-learning, investimenti attraverso club deal, insomma tantissime modalità. E oggi stiamo per lanciare una nuova app dedicata proprio al mondo degli investimenti immobiliari. Quindi daremo uno strumento tecnologico per permettere agli investitori di poter lavorare in agilità e in maniera molto dinamica. Ecco, una cosa che ci ha insegnato forse questo periodo è quello che lei ha appena detto, cioè che quantomeno abbiamo dovuto accelerare tutto il processo di evoluzione anche rispetto alle nuove tecnologie e quindi poter dare degli strumenti più facili, immediati, veloci a chi ha bisogno, insomma. Sì, diciamo che l'utilizzo della tecnologia per noi è diventato un elemento fondamentale. Nonostante lavoriamo in un settore che possiamo definire un po' vecchiotto come stile, perché l'immobiliare non è al passo con i tempi. Noi stiamo cercando di portare la tecnologia all'interno dell'immobiliare per rendere tutto più veloce e più performante. Bene, quindi insomma io mi complimento con voi, con lei naturalmente e tutto il suo team, in attesa di rivedervi per altri riconoscimenti, insomma, dal vivo questa volta. Certo. Cioè dal vivo, noi siamo dal vivo, però magari con una rete. Con il pubblico, esatto. Anche perché poi di rete sinergia si è parlato molto anche in questo momento. Diciamo che i frutti si vedranno poi nei prossimi mesi, credo. Sì, assolutamente sì, proprio sul discorso rete, anche su questo, noi grazie alla community sviluppiamo i progetti, quindi lavoriamo a carattere nazionale, siamo tutti insieme, ma ognuno è autonomo. Quindi è una cosa interessante. Grazie a Giuseppe Gatti, CEO di Giuseppe Gatti Holding, per questo premio. Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, investimenti immobiliari. Adesso lo può prendere davvero. Grazie mille. Prego. Grazie.